Ciao a tutti amici di MTVBCO, oggi vogliamo affrontare un problema di particolare importanza ovvero il rumore che possono emettere i dischi dei freni quando praticamente state frenando oppure anche quando non si frena. Una situazione particolarmente fastidiosa che è meglio che non accada perché significa che c'è qualcosa che non va. Andiamo a vedere che cosa è che non può andare. Diciamo subito che il motivo fondamentale per cui si sente un rumore ai dischi quando si frena è che praticamente il disco oppure le pastiglie sono state contaminate da un agente esterno che può essere un lubrificante o qualsiasi altro tipo di liquido contaminante. In questo caso si viene a creare una mancanza di attrito lungo la superficie della pista frenante del disco e questa mancanza di attrito determina delle vibrazioni, vibrazioni che possono essere più o meno rumorose e innanzitutto diciamo che il freno non frena più bene e in aggiunta abbiamo questo rumore fastidioso che sarebbe meglio evitare. La mescola che è sulle pastiglie è fatta di un materiale abbastanza poroso per cui cosa succede? Questo materiale tende ad attirare delle sostanze lubrificanti, sgrassanti o elucidanti del telaio. Queste sostanze quindi restano appiccicate sulla pastiglia e vanno poi a loro volta a contaminare anche i dischi quindi si vengono a creare queste mancanze di attrito e queste vibrazioni di cui vi parlavo prima. La prima accortezza che possiamo utilizzare è in fase di lubrificazione. Evitiamo di utilizzare lubrificanti spray perché lo spruzzo potrebbe far andare a finire lubrificante sul disco posteriore in questo caso. Utilizziamo invece lubrificanti con beccucci di questo tipo e con molta pazienza mentre con una mano giriamo la catena in questo modo con l'altra mano utilizziamo il lubrificante e facciamo gatere una goccia di lubrificante tra ogni maglia. Lo so ci vorrà un po' di tempo in più ma è un lavoro fatto come si deve, fatto per bene in questo modo. E dopo ovviamente asciughiamo la catena con un panno in questo modo siamo sicuri che il disco non sarà contaminato dall'olio. Se proprio non potete fare a meno di utilizzare un lubrificante spray perché magari lo avete appena comprato ne avete diversi e quindi non vi va di buttarlo giustamente allora utilizzatelo pure però almeno prima di applicarlo sulla catena mettete un panno qui tra i raggi della ruota posteriore che vada a schermare il disco in questo modo almeno eviterete che il disco venga appunto contaminato dallo spruzzo del lubrificante. Altro rischio quando dovete lucidare il vostro telaio fate molto attenzione evitate, evitate di spruzzare come al solito il lucido e il lucidante direttamente sul telaio perché appunto una parte dello spruzzo potrebbe andare a finire sui dischi cosa fate? Prendete un bel panno spruzzate il lucidante direttamente sul panno e quindi passate poi il panno sul vostro telaio in questo modo tra l'altro consumerete anche meno lucidante perché un conto è spruzzare direttamente sul telaio e quindi andare a perdere la sostanza lucidante un conto invece spruzzare sul panno e quindi distribuire meglio il lucidante e consumare anche di meno e soprattutto evitare di contaminare i dischi ovviamente quando lavate la bici evitate di pulire i dischi con la stessa spazzola che utilizzate per le altre parti della bici anzi in realtà i dischi non andrebbero neanche puliti con alcuna spazzola quindi state attenti anche quando andate a lavare semplicemente la bici perché anche in questo caso quando poi utilizzate le varie spazzole per la trasmissione e per altre parti state attenti a non toccare i dischi e state attenti state molto attenti quando andate a fare lo spurgo dei freni non pensate che tanto l'olio non cadrà mai sul disco perché magari invece potrebbe accadere quindi cosa fate prima di fare lo spurgo dei freni rimuovete la ruota dalla bici e magari rimuovete anche le pastiglie dalla pinza in questo modo siete sicuri che se gocciola dell'olio dell'impianto frenante che è un olio altamente corrosivo e quindi è meglio evitare siete sicuri quindi che non vada a finire né sul disco né sulle pastiglie finora abbiamo visto le accortezze da adottare per evitare di contaminare le pastiglie quindi i dischi ma cosa succede se invece le nostre pastiglie sono già contaminate? niente paura andiamo a vedere cosa possiamo fare la prima cosa che facciamo è andiamo a prendere le nostre pastiglie quindi le smontiamo dalla pinza e con un po' di carta vetrata o anche una lima abbastanza sottile andiamo a passare sopra il materiale frenante appoggiamo la pastiglia su un piano quindi passiamo la carta vetrata oppure la lima sopra il materiale frenante cercando di rimuovere quella parte contaminata della mescola ecco procediamo in questo modo finché non vediamo che la superficie della pastiglia raggiunge un colore uniforme diverso da quello attuale che sarà sicuramente più scuro una volta ovviamente che abbiamo carteggiato limato le pastiglie dobbiamo pulirle per bene dai residui ovviamente prima di montare le pastiglie appena pulite andremo a pulire anche tutta la la pista frenante del disco utilizzando alcol isopropilico ovviamente dopo questo trattamento di dischi e pastiglie alle prime volte che utilizzerete i freni potrebbero non essere efficaci come all'inizio in quanto hanno bisogno di un breve periodo di rodaggio quindi vi converrà andare su un terreno in piano e magari fare diverse azioni frenanti in sicurezza una volta terminata questa operazione se comunque notate che il vostro disco fa ancora rumore quando la ruota gira allora potrebbe essere anche un problema del disco che è leggermente da raddrizzare lo capirete perché vedrete che il rumore è intermittente quindi c'è un punto in cui il disco fa rumore e altri punti invece in cui non lo fa questo punto potreste semplicemente tentare di raddrizzarlo dunque la prima cosa da fare è individuare il punto lungo la circonferenza del disco che tocca le pastiglie quindi cosa facciamo facciamo girare la nostra ruota e appena sentiamo il rumore di sfregamento del disco fermiamo la ruota e quindi individuiamo il punto in cui tocca le pastiglie una volta fatto questo possiamo procedere a tentare di raddrizzare il disco possiamo farlo tranquillamente anche con le mani ovviamente non usiamo le mani nude che potrebbero essere sporche quindi contaminare nuovamente il disco ma utilizziamo un panno che sicuramente è pulito o anche un tovagliolo di carta come in questo modo andiamo a posizionarci sul punto che abbiamo capito che è da raddrizzare e abbiamo capito anche che dobbiamo spingere verso i raggi o allontanarci dai raggi e quindi con due mani facciamo leggermente leva sul disco quindi o verso i raggi o allontanandolo dai raggi dando dei colpetti leggeri e quindi riprovare a girare la ruota per capire se abbiamo risolto il problema dobbiamo continuare a spingere attenzione a non esagerare con lo spingere troppo il disco perché potrebbe accadere che invece di raddrizzarlo lo pieghiamo dal lato opposto quindi cosa succede? se accade questo e ci accorgiamo che il disco continua a sfregare nonostante noi stiamo provando a spingerlo dobbiamo traguardare nuovamente la luce tra disco e pastiglie per vedere se effettivamente è accaduto questo quindi se è accaduto questo dovremmo chiaramente spingere il disco dal lato opposto a quello in cui stavamo spingendo prima a questo punto dobbiamo cercare però di capire se il disco tocca la pastiglia interna o esterna come facciamo a capirlo semplicemente posizioniamo il disco nel punto in cui sfrega la pastiglia alle pastiglie una delle due pastiglie quindi cerchiamo di traguardare la luce tra disco e pastiglia per capire se lo spazio che c'è tra disco e pastiglia rispetto alla pastiglia interna o alla pastiglia esterna quindi significa che il disco tocca quell'interno o quell'esterno lo sfregamento del disco alle pastiglie potrebbe anche essere causato dal fatto che chiaramente avendo rimosso le pastiglie dalla pinza vuol dire che avrete smontato anche la pinza dalla forcella in questo caso o dal telaio se parliamo del freno posteriore se avete fatto ciò quando andrete a rimontare la pinza potrà accadere che chiaramente la pinza non sarà più allineata al disco e quindi il disco sfregherà le pastiglie cosa si fa in questi casi? il primo tentativo quello più semplice è quello di una volta rimontata la pinza lasciate leggermente allentate queste due viti fate girare la ruota e quindi date un bel colpo alla leva tenendo la leva frenata in questo modo con l'altra mano oppure vi fate aiutare da un vostro amico andrete a serrare queste due viti quindi riprovate a girare la ruota e se siete fortunati avrete risolto il vostro problema se il problema non si è ancora risolto allora dovrete fare una regolazione più fine e manuale come si fa? semplice allenterete nuovamente queste due viti leggermente quindi mentre con una mano fate girare la ruota con l'altra mano darete dei piccoli colpetti qui alla pinza ovviamente stando attenti a non toccare il disco altrimenti vi farete molto male quindi darete dei piccoli colpetti alla pinza finché sentite che il disco non sfrega oppure al massimo sfrega leggermente una volta che avete raggiunto questo risultato potete serrare nuovamente le due viti se il problema non è stato ancora risolto allora dovrete fare una regolazione manuale del posizionamento della pinza come si fa? semplicemente si smollano leggermente queste due viti nuovamente quindi mentre con una mano fate girare piano la ruota e cercate di individuare il punto di sfregamento con l'altra mano stando attenti ovviamente a non toccare il disco perché potreste farvi male con l'altra mano quindi cercate pian piano leggermente di spostare la pinza finché lo sfregamento non sentite che diminuisce una volta che avete raggiunto questo risultato serrate nuovamente le viti se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al nostro canale youtube ma soprattutto a seguirci anche su mtbvco.com dove trovate continuamente i nostri aggiornamenti sul mondo della mountain bike un saluto a tutti grazie a tutti